Buongiorno dalla Romagna e dalla vostra cuccagna c'è. Oggi questo video lo voglio dedicare a un mio amico Gastone, un ragazzo diversamente giovane che viene a mangiare dove lavoro io. Allora ieri l'ho visto un po' abbacchiato e ho detto Gastone ma cosa hai fatto? Ho sognato male biondina, ma cosa hai sognato? Ho sognato di morire, ma no Gastone non ti preoccupare i sogni vanno sempre a contrario. No, no, ma tal se sei come dispiace di morire adesso? Cioè lo sai cosa mi dispiace se muoio adesso? E io ma cosa? Cosa ti dispiace? Ma non muori! E lui fa un dispiace da sola la mia ballarena, cioè mi dispiace lasciare da sola la mia ballerina. Perché tal se sei con tutti quei vecchi che gli vanno dietro? Ma ho detto ma Gastone non muori, non ti preoccupare che non muori i sogni vanno al contrario. No, no, perché me è so giovane, me ho solo 82 anni. Cioè lui è giovane, ha solo 82 anni e lasciare la sua ballerina adesso con tutti quei vecchi che le van chiedere di ballare. Ecco questo che vi volevo dire. la preoccupazione è il non aver paura di morire proprio per la morte, ma per aver paura di morire per lasciare da sola la sua ballerina. Gastone sei un grande, è la più bella dichiarazione d'amore che ci potesse essere. E guarda, il mio giorno è finito bene e ti auguro di vivere ancora lungo Gastone e vivrai a lungo ballando con la tua ballerina. Ed è per questo che ho messo anche la mia foto con Filippo mentre facciamo quel ballo, il casquet, perché il ballerino deve sempre sorreggere la sua ballerina, qualsiasi cosa accada. Ciao ciao dalla vostra cuccagna c'è!